A Monta 311 euro la retta media mensile per un bimbo iscritto all'asilo nido comunale in Italia. Un costo che rimane stabile rispetto al passato e che incide per il 12% sulla spesa sostenuta ogni mese da una famiglia media. Nel 2014-2015 la regione più costosa è la Valle d'Aosta, 440 euro. Quella più economica è la Calabria, 164 euro, anche se rispetto al 2013-2014 ha registrato l'incremento più consistente a livello nazionale. L'analisi è dell'Osservatorio Nazionale Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che ha diffuso un dossier su costi e disponibilità di posti e lista di attesa negli asili nido comunali. Fra i capoluoghi di provincia a rileva all'osservatorio solo 14 hanno aumentato le rette nell'ultimo anno. L'incremento record a Cosenza, più 117,3%, quello minimo a Trieste, più 0,5%. Lecco il capoluogo di provincia più caro, Catanzaro il meno caro. E fra liste di attesa e mancata copertura del servizio sono ancora tanti, denuncia la ONLUS, i bambini che non frequentano l'asilo nido pubblico. Ottiene un posto meno del 12% dei bimbi tra 0 e 2 anni. Chiediamo di rilanciare nel dibattito pubblico l'adeguamento alle esigenze anche economiche delle famiglie italiane del servizio educativo per la prima infanzia, afferma la responsabile delle politiche per i consumatori di cittadinanza attiva. È necessario prevedere una maggiore flessibilità per i servizi, una revisione degli orari, un'offerta integrata con le molteplici ma disomogene esperienze di welfare aziendale e di soluzioni alternative. Ripensare il modello di servizio è urgente per permettere di frequentare l'asilo a un maggior numero di bambini e a costi sostenibili.